Cominciando a far viaggiare il cibo da una terra all'altra, da un continente all'altro, abbiamo perso il contatto. Non sappiamo più cosa stiamo mangiando, chi sta organizzando la salute del nostro corpo, chi sta costruendo il nostro corpo. Non lo sappiamo più. La cosa bellissima in Sicilia che sta succedendo in questo momento è che tanti giovani ritornano alla terra con un sentimento completamente diverso e soprattutto lo fanno con coscienza, lo abbiamo fatto con coscienza. Noi in Sicilia abbiamo una grande risorsa, che è il sole. Per noi è una risorsa importantissima ed è anche gratis. Il territorio può dare e dà ancora tanto, non serve andare solo alla zona industriale, ma c'è tanto da fare, c'è molto, la natura ci dà. Il prevedeo antico, sai che cosa diceva? E' la campagna quella che ti cambia. Perché se tu tutto vieni dalla campagna, l'olio dove ne vieni, dalla singhia, dal rasio, da dove vieni? Tu ti fai una salata, prendi un po' di olio, ci metti da bagno pane, o ci metti il cristiano romano, magari che mangi il pane c'è pure.